Allora, benvenuti in un nuovo video. Dopo le tantissime richieste sotto la mia ultima routine ecco a voi la mia afternoon study routine che inizia quando torno a casa più o meno verso le 4 o meno un quarto dall'università e come prima cosa dopo aver posato una borsa tiro fuori i quaderni per iniziare a studiare e chiaramente anche l'astuccio, cerco di non perdermi troppo in chiacchiere diciamo, in picci e una volta posato il telefono mi metto subito alla scrivania, sposto il computer e faccio un attimino di pulizia per avere uno spazio lavorativo più pulito, più comodo, più confortevole, sicuramente più ordinato che vi ricordo essere sempre la cosa più importante poi prendo la mia aziendina, attualmente siccome la borsa all'università mi presta veramente tantissimo porto questa piccolina in cui segno le cose più importanti e poi le ricopio una volta a casa e quindi guardo cosa ho da fare per la settimana corrente e mi porto spesso avanti tra l'altro segno con evidenziatori diversi, il rosa le cose imminenti importanti, il giallo le cose che posso sorvolare e infine con il blu invece esercizi scritti che devo fare, che quindi mi rilassa fare eccetera non sempre seguo un ordine logico per cui non sempre la cosa che viene prima la faccio prima dipende un po' da come mi va, dalla difficoltà eccetera poi metto a sistemare diciamo le cose che mi serviranno oggi devo fare diverse cose colorate, dei grafici per marketing per cui ho tirato fuori un po' tutta l'attrezzatura per scrivere e colorare un po' le pagine come piace a me quindi sì, perdo un pochino di tempo a sistemare le penne, evidenziatori, penne colorate eccetera siccome in questa parte dello studio non mi servirà il computer lo sposto dalla scrivania perché odio stare tutta diciamo stretta e quindi preferisco stare super larga, super comoda e lo metto sul letto accanto al telefono, quindi dietro alle mie spalle poi si inizia, prendo questo quadernone, il quaderno blu è di marketing marketing tra l'altro l'avevo fatto esattamente quel pomeriggio siccome era una cosa che avevo ben fissa in quel momento ho preferito finirla visto che mi mancava, non so se vedete l'esercizio sotto è vuoto e era un'analisi di mercato che stavo facendo e volevo finire tuttavia prima di iniziare con lo studio mi tiro sui capelli, perlomeno quelli davanti perché odio averli davanti alla faccia quando studio ma questo lo sapete per cui mi sono fatta questo piccolo codino dietro per stare più comoda e poi spalanco le tende perché voglio la luce naturale in questo periodo che è quasi estate e finalmente c'è anche fino a tardi e inizio con il mio studio e questo era fortunatamente un esercizio diciamo scritto uno studio molto molto pratico, molto grafico e quindi mi sono messa a farlo e come potete vedere i colori nei miei esercizi nel mio studio non mancano mai perché per me sono veramente molto importanti per ricordarmi le cose eccetera allo studio che faccio con gli esercizi e gli appunti che ho preso in classe aggiungo anche le fotocopie e le slide che il professore ci manda via email e trovo la cosa molto molto utile vi lascio anche i miei link per seguirmi un po' ovunque in descrizione oltre che sullo schermo come potete vedere e più o meno proseguo così fino alle 5 e mezza alle 5 e mezza inizia il mio momento preferito ovvero la pausa la pausa per me è importante perché mi fa staccare e la faccio dalle 5 e mezza alle 6 quindi esattamente mezz'ora di pausa in cui chiaramente mangio e bevo in questo caso mi sono preparata una semplicissima merenda con avena, nesquik e banana che sono ingredienti molto semplici e molto facili da combinare tra loro poi vi serviranno una padellina, uno scolapasta piccolo e una ciotolina qui quantifico diciamo l'avena ovviamente io non vado a grammi io semplicemente la guardo e capisco che è la porzione giusta per me poi riempio questo pentolino d'acqua d'acqua fredda chiaramente e poi lo metto sul fuoco accento e la porto ad ebollizione ve l'ho fatto vedere tante volte ma per i nuovi iscritti vi faccio rivedere come preparo la mia avena con banana poi nel frattempo mentre l'acqua sta bollendo io apro la banana e la faccio in pezzettini in modo tale che quando poi l'avena è pronta, bella calda ce la posso andare a mettere sopra senza perdere ulteriormente tempo alcune persone la schiacciano e la fanno tipo poltiglia a me personalmente piace più a rotelline non appena l'acqua bolle vado a mettere all'interno l'avena spesso mi chiedete quanto tempo la tengo io la tengo più o meno un minuto circa poi dipende da voi dai vostri gusti personali e questo è quello che vedrete mentre l'avena si cuocerà poi nel piccolo scolapasta vado a scolare tutta l'avena e infine la vado a mettere nella ciotolina di prima dove la vado infine a condire con le banane tagliate prima chiaramente poi cambio anche la frutta giorno per giorno frutta di stagione, fragole eccetera e poi sopra metto un pochino di cacao mi piace moltissimo a volte metto anche le noci insomma varia molto quel giorno avevo voglia di banana e cacao è buonissima, è super salutare e poco grassa però super gustosa e riempie moltissimo infine quel giorno avevo il chinotto del giorno prima che era il primo maggio dove ho festeggiato e quindi l'ho usato poi uso questa mezz'ora di pausa per vedere un episodio della mia serie di più preferita di sempre ovvero Modern Family è una serie che vi consiglio perché innanzitutto dura 20 minuti e quindi in questo modo io riesco bene a quantificare la mia pausa e anche perché mi fa super morire da ridere quindi stacco tantissimo in quei 20 minuti in cui non penso a niente è la pausa perfetta dopodiché in quei 10 minuti magari vado in bagno pulisco i piatti e dopo un'esatta mezz'ora sono di nuovo a mettermi a lavorare è una bellissima serie, ve la consiglio anche perché è molto divertente è veramente super carina alle 6 spaccate torno a studiare questa volta la seconda parte dello studio che più o meno faccio dalle 6 alle 7 è una parte molto sul computer che è una parte che mi stressa di meno per cui preferisco fare le cose scritte prima quando sono ancora fresca e poi man mano va avanti la serata e più mi stanco preferisco fare le cose al computer che in qualche modo mi svegliano comunque sempre un po' di più in quel momento stavo facendo in design stavo studiando un testo un approfondimento dopodiché vado a levare dalla mia agendina le cose che ho fatto appunto quelle due e poi in questo periodo più o meno dalle 7 alle 8 di sera che è il momento in cui io mi fermo con lo studio sto studiando per la patente come sapete per cui mi metto lì con il mio libretto e qui mi permetto e mi concedo diciamo sia l'uso del telefono che del computer se voglio controllare qualcosa online se fare dei test come in questo momento oppure anche se voglio inviare un messaggio magari a qualcuno per chiedergli aiuto tipo il mio ragazzo che mi aiuta sempre molto volentieri sono diciamo fortunata perché i miei occhi mi dicono quando non ce la fanno più a studiare anche la mia testa e infatti più o meno verso le 8 8 meno un quarto dipende molto dai giorni gli occhi mi diciamo mi mandano segnali d'allarme diciamo che sto morendo di stanchezza e quindi mi fermo mi levo gli occhiali li metto a posto e lo studio finisce io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se ne volete altri così perché li farò thumbs up iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e noi ci vediamo alla prossima ciao is it too late now to say sorry cuz I'm missing more than just your body oh